La circolazione su grande scala continua ad essere caratterizzata dall'azione di blocco esercitata da un vasto e robusto campo di alta pressione sull'Europa orientale con le perturbazioni atlantiche che tendono ad attardarsi sull'Europa occidentale e sulla nostra penisola. In Toscana mercoledì 20 novembre variabili e con possibilità di precipitazioni sparse intermittenti su costa, arcipelago e localmente su rilievi appenninici settentrionali più frequenti nel tardo pomeriggio. Venti deboli variabili nell'interno fino a moderati occidentali sulla costa, mari mossi fino a molto mossi a largo a nord dell'Elba dal pomeriggio, temperature minime insensibili calo soprattutto nell'interno, massime in aumento. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso a nuvoloso con deboli piogge in serata, a Lucche sulla Piana temperatura minima 8, massima 17 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 5, massima 17, a Biareggio sul litorale minima 11, massima 17 gradi, giovedì molto nuvoloso con deboli piogge alternate a schiarite.